Venite con me. Una volta entrati, segnerò i dipinti che dovrete rubare. Portateli alla bottega di Leonardo, capito? L'invito? Eccolo. Un uccello. Alte presto! Spero. Un uccello. 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 divina non rifugia come si deve, non mi commuove. Oh, siete un inguaribile tradizionalista, amico mio. Che stai facendo, capone? Calmatevi! Che state facendo? Si ammazzerà ad andare in cielo. Povera anima. Cos'è accaduto qui? I piani superiori sono aperti ai cardinali che vogliono ammirare altre espressioni di devozione. Come in, come in, come in? Come in, come in. Come in. Come in. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.